Il secondo concorrente di questo pomeriggio sarà D'Andrea Daniele, nato a Salerno, Italia, gli anni 22, nazionalità italiana e cittadinanza italiana. Esegue nell'ordine di Johann Sebastian Bach l'adagio e frugà dalla prima sonata in sol minore. Del maestro Lipitzer lo studio numero 18, variazioni, allegro, andantino, energico, dalla tecnica superiore del violino e di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto in sol maggiore KV216, secondo e terzo movimento, cadenza di Franco. Lo accompagna il pianista ufficiale Eugenie Sineschi. Grazie. 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 Grazie.